Anticipazioni, Ilmat pronto a riprendersi Zuleyla, Demir condannato a morte. Ciao a tutte e benvenute sul mio canale. Oggi vi racconterò delle anticipazioni di Terramara, ma voi ricordatevi sempre prima di iniziare di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Durante il funerale di Gengavier una notizia improvvisa giunge alle orecchie di Fekeli e Ilmat. Cetin si è dimostrato colpevole di aver sparato accidentalmente a Fekeli e si è fatto arrestare confessando di essere il colpevole. Sentita questa voce, Ilmat e il suo padrino, convinti che la giustizia debba essere fatta a tutti i costi, si recano in caserma per confessare la verità, ammettendo che il vero colpevole dell'incidente è lui stesso, Ilmat. Una confessione che lo condurrà inevitabilmente a pagare anche ingiustamente da una parte, perché sappiamo che è successo accidentalmente. Contemporaneamente anche Demir si ritrova ingiustamente dietro le sbarre, accusato dell'omicidio di Gengavier. In seguito Ilmat e Demir si ritrovano insieme nella cella con altri detenuti e non appena si incrociano tra i due scoppia una violenta lite che, in breve tempo, si tramuta in una rissa, diffondendosi anche tra gli altri prigionieri e attirando l'attenzione di tutto il carcere. I due vengono puliti e Loiam e Ilmat vengono messi in isolamento, ciascuno in una cella diversa, ma l'uno accanto all'altra, divisi solo da una parete. Nonostante fossero così divisi, la loro ostilità non si ferma e tramite questo muro i due continuano ad insultarsi, prezantemente. In particolare Ilmat finalmente ha la possibilità di scagliarsi contro Demir e dopo tutto questo tempo in cui Ilmat ha accumulato odio profondo nei suoi riguardi, il giovane Akaia, furioso e determinato, lo minaccia di riprendersi tutto ciò che gli è stato tolto. Inclusi i figli e la moglie di Demir, Zuleyla, che è stata costretta a sposarlo e a diventare parte della famiglia Yaman. A questo punto Ilmat scoglie anche l'occasione di accusare Unkar di essere un mostro di aver fatto del male a Zuleyla e di essere a conoscenza che è stata lei l'artefice della loro separazione, rivelando di aver scoperto tutto ciò grazie ad una lettera che gli aveva scritto Zuleyla. Possiamo notare come la sua sete di vendetta ora sia inarrestabile. Ma andiamo avanti. Nonostante la rabbia, Demir non può fare a meno che riflettere sulle parole di Ilmat e sulle parole della sua amata Zuleyla. Quindi cade nel silenzio. Il giovane Akaia, nel frattempo stremato da tutto e tutti, sfocia in un pianto. Nel frattempo Zuleyla sta lottando contro l'oppressione di Unkar, che è pronta a controllare ogni suo movimento. Fino a quando Unkar e Fekele ricevono la notizia che Demir e Ilmat sono stati messi in isolamento e quindi decidono di andare a fargli visita per cercare di fare chiarezza sulla situazione ed aiutarli ad uscire dal carcere. Con loro è presente anche Mujiger, ma arrivati in caserma gli viene vietato di incontrarli, informandoli che potranno vederli e parlargli solo una volta fuori dall'isolamento. Nel frattempo vediamo Zuleyla che prova ad uscire dalla villa con la sua macchina, ma ha una brutta sorpresa. Precedentemente Sanye le ha bucato una ruota, sicuramente sotto ordine della padrona Unkar. Così la ragazza va su tutte le furie e successivamente scontrandosi con Unkar le sottolinea che voleva soltanto fare qualcosa per evitare che tra Demir e Ilmat potesse accadere qualcosa di tragico in prigione, cosa che però chiaramente, non potendo raggiungerle in tempo, è successa. Unkar immediatamente le risponde a tono e le fa capire che Leila tiene sempre sotto controllo. Ora, tra le due donne guerra, infatti la diabolica Unkar chiama da parte Gulten e le chiede di stare vicino a Zuleyla per controllarla. Inoltre Unkar coglie l'occasione per ricordare alla giovane Gulten di non raccontare a nessuno quello che le è successo con Erkumen. Nel frattempo Ilmat è in tribunale e al giudizio, oltre all'imputato, sono presenti anche Chetín, Mujigan, Fekeli e il suo avvocato. Qui vediamo che Ilmat viene assolto e può finalmente tornare in libertà. Ovviamente sono tutti felicissimi della sentenza e il giovane Akkaia, prima di andarsene, si avvicina a Demir, sussurrando che non vede l'ora che esca anche lui dal carcere per poterlo uccidere con le sue mani ed avere così la sua vendetta. Nello stesso momento Unkar e Zuleyla arrivano davanti al carcere per incontrare Ilmat appena uscito. Ilmat, senza perdere tempo, coglie l'occasione per dire a Zuleyla che deve parlarle. Nel frattempo Fekeli e Chetín vanno a prenderlo. Così Unkar e Zuleyla entrano nel carcere. Zuleyla si dirige al bagno e mentre lì la suocera viene convocata per andare a incontrare Demir. L'uomo dice a sua madre che tutto ciò che è successo in carcere è nel dettaglio, che Ilmat gli ha svelato di aver tentato di ucciderla. Ma non solo Demir le rivela che Ilmat gli ha letto la lettera di Zuleyla dove lei ha scritto che l'hanno costretta a sposare lo Yaman. Mentre i due cercano di capire chi possa essere stato a far avere la lettera a Ilmat, Demir ipotizza come probabile colpevole Gafur. Ma la matriarca non concorda col pensiero del figlio. In tutto ciò Demir fa succedere anche un casino poiché è furioso che non è riuscito a parlare con la moglie. D'altra parte vediamo che Ilmat si confronta con il suo padrino Fekeli il quale cerca di farlo ragionare. Ali Ramed lo fa riflettere sulla sua scelta riguardo a Zuleyla. Cerca di aprirgli gli occhi facendolo ragionare sul fatto che ha una moglie e che lo ama da morire. E tutto ciò non è giusto nei suoi confronti. Oltretutto si è appena sposato e quello che vuole andrebbe fatto nei tempi giusti. Acaia ovviamente è in predalira e alla confusione perché non trova una via d'uscita e successivamente quando torna da Bujigan si rende conto effettivamente che lei lo ama tantissimo e la scelta quindi risulta difficile più che mai. Nel frattempo Zuleyla e Unkar entrate a casa prendono la notizia dal loro avvocato che per Demir è stata richiesta la pena di morte. Ma non finisce qui perché le due donne scoprono che a causare tutto ciò è stata Sermin. Quindi Unkar corre a cercarla ma in vano perché Sermin si è nascosta nella casa vacanze segreta di Atipo. L'indomani Ilmaz prova a parlare telefonicamente con Zuleyla ma Sanye impedisce ai due di potersi parlare. Verso sera anche Unkar e Fekeli si confrontano. La signora chiede a Fekeli di farle riflettere Ilmaz affinché non accada qualcosa di brutto o meglio di grave tra i due rivali. Ma Unkar e Fekeli non arrivano ad una conclusione. Il giorno successivo Unkar riceve una terribile sorpresa. Viene alla luce che Ilmaz ha deciso di sistemare la casa di Sermin per trasferirsi lì ed avvicinarsi sempre di più a Zuleyla. La matriarca corre immediatamente da Ilmaz per cercare di farlo tornare sui suoi passi arrivando quasi a minacciarlo ma Ilmaz rimane fermo nelle sue intenzioni. Successivamente anche Demir viene a sapere tramite Gafur cosa sta per accadere e impazzisce solo al pensiero che il suo nemico nonché rivale possa avvicinarsi alla villa Yaman mentre lui è rinchiuso in carcere. D'altra parte giunta sera Ilmaz e Zuleyla riescono quasi ad incontrarsi ma stavolta è la stessa Unkar ad ostacolarli. La signora di Kukurova il giorno successivo si reca dal figlio che rischia di passare i prossimi venti anni rinchiuso in quella cella. Qui Demir l'avvisa che se non riuscirà ad uscire dal caccere commetterà qualcosa di tragico e grave. Dopo la visita della madre Demir perde il senno, va in bagno e si procura una grave ferita. L'uomo viene trasferito in ospedale ma non è in pericolo di vita e non appena si sente meglio viene portato di nuovo in cella. Nel frattempo, arrivata la sera e grazie all'aiuto di Gulte Zuleyla e Ilmaz finalmente riescono a vedersi. Cosa succederà oggi? Commentate voi! Le anticipazioni sono terminate qui per oggi. Lasciate un like ed iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornate sulle novità riguardo il mondo delle soap turche. Ma non solo. Ci vediamo al prossimo video.